Siamo alla 52esima lezione, ricordo sempre che siamo nella seconda fase, quindi sono lezioni che non sono tutte direttamente finalizzate alla traduzione dal latino, ma sono finalizzate anche a una conoscenza più specifica della lingua latina. La terza fase, come ripeterò in tutte queste lezioni, la lascerò evidentemente ai singoli, perché una volta che si è percorsa la prima e la seconda fase, chi vuole arrivare ad una conoscenza ancora più approfondita e specifica del latino, può benissimo farlo accostandosi ad una sintassi ben fatta e organizzata. Quindi cominciamo a tradurre questi esercizi dal latino. Dunque, è evidente che Milziades è il soggetto, l'unico verbo è adiutus est. Pugna, Maratonia è un complemento di tempo determinato nella battaglia presso Maratona. Dunque, Milziades, a cui si legano questi attributi e queste apposizioni, con il comandante più coraggioso degli ateniesi, è meglio fortissimo stradurlo con un superlativo relativo, perché il comandante coraggiosissimo degli ateniesi non va bene, anche perché abbiamo un partitivo qui, ateniense. Adiutus est fu favorito e poi abbiamo delle cause efficienti. La causa efficiente è questo, è un secondo termine di paragone, non meno dalla prudenza che dalla fortuna. Mortuo Alessandro è evidente che è un ablativo assoluto, si può fare questo ablativo assoluto perché mortuo è un verbo intransitivo deponente, perché se fosse un verbo intransitivo e non deponente non si potrebbe fare. Abbiamo un participio passato, lo possiamo tradurre tranquillamente così in modo letterale, morto Alessandro. Quelli che preerant esercitibus, preerant è un composto di sum, erano a capo degli eserciti, e quindi cosa fanno? Deficiunt ad seleucum siri regem. Ora, abbiamo detto che c'è una frase fatta, deficere ab aliquo ad aliquem, passare da uno all'altro. A volte però non ci sono tutte e due, c'è solo deficere ab aliquo, oppure deficere ad aliquem. In questo caso c'è il secondo, deficere ad aliquem, manca ab aliquo. Quindi, deficere ad aliquem, passano a Seleuco re di Siria. Notate una cosa, coloro che erano a capo degli eserciti, questo è un passato, quindi sarebbe opportuno, anche se nella principale c'è un presente, in latino è evidente un presente storico, come regola italiana sarebbe opportuno mettere tutto al passato. Quindi morto Alessandro, coloro che erano a capo degli eserciti, passarono a Seleuco, regia della Siria, e compelunt, e, compelunt eum, e lo spingono, e quindi lo spinsero, a portare guerra all'esimaco. inter omnes constat cicerone, amene exilium pulsum, it animo defecisse, uta redditum desperaret. Inter omnes constat, è la frase fatta, vuol dire, tra tutti consta, quindi tutti sanno che, cicerone pulsum, vedete, legate lì è, i casi, cicerone cacciato in esilio, defecisse, deficere animo vuol dire perdersi d'animo, si era perso d'animo, ita ut, a tal punto che, disperò del ritorno, vedete, despero, poteva anche esserci de più ablativo, ma in ogni modo despero regge l'accusativo, redditum. Octavianus et Antonius, uta cesaris mortem ulciscerentum, brutum et cassium secuti, at filippos profrigaverum. Qui abbiamo una subordinata, ulcisceris mortem ulciscerentum, ulciscor, regge l'accusativo, vuol dire vendicarsi, ulciscor è un deponente, quindi forma passiva, significato attivo, per vendicarsi della morte di Cesare. Noi andiamo alla principale. Octaviano e Antonio, secuti brutum et cassium. Dunque, secuti è un participio passato, secur, securi, securus un secui, è un participio passato di un verbo deponente. Se voi andate a cercare la mia regola sul participio passato nel manuale, c'è sia la lezione, sia il manuale scritto, e i participi passati e i diversi deponenti hanno valore attivo. Quindi, avendo seguito brutto e cassio, seguiti brutto e cassio, come volete guardare, seguiti brutto e cassio, avendo seguito brutto e cassio, profrigaverum da lì, sconfissero, ho aggiunto un lì, in latino non meteos, è sottointeso, lì sconfissero ad filippos, o apur filippos, appresso filippi. Magnus capitolinus accusatus est, quod primus apatribus at plebem defecisset. Vedete? Già subito notate defiggere. A, ab, aliquo, ad, aliquem. Quindi, Magno capitolino fu accusato, e qui non c'è nessun problema, quod primus, perché, per primo, ma vedremo anche dopo un'altra traduzione, defecisset era passato dai senatori alla preve. ma potrebbe anche essere un quadri dichiarativo. Fu accusato di essere passato a meto forma implicita. Per primo, dai senatori alla preve. neque, afwit è un composto di sun, ne, afwit è il suo soggetto, perché è il nominutivo, ne venne meno il sospetto che, vedete questo Queen, il Queen per lo più regge una dichiarativa, una complementare diretta, una esplicativa, cioè sta spiegando questa subordinata, in che cosa consiste questo sospetto? Che lo stesso, a peteret regnum, vi ricordate, peter, poteva anche essere scritto semplicemente peteret, peteret regnum, c'è un composto di peto, che sostanzialmente vuol dire la stessa cosa, che lui stesso aspirasse al regno. A peto legge l'accusativo, tra i vari significati di peto, c'è anche aspirare a qualcosa. Cesar ad lingonas litteras misit, ne elvezios frumento, neve agli aret iu varent, si juvissent, se eos eodem loco coelvezios, abiturub esse, dicevat. Allora, Cesar misit, Cesare inviò una lettera ai lingue, lettera, io l'ho tradotto al singolare, perché non mi pare il caso tradurlo al plurale. Voi sapete che littera al singolare non vuol dire lettera come missiva, ma lettera al singolare vuol dire lettera dell'alfabeto. Quindi, un litteras plurale può tradurre sia lettera che lettere, però, mi pare che qui abbiamo andato una lettera, no? Ne juvaren, elvezios, affinché non aiutassero, non fossero di aiuto agli elvezi. L'uvo, anche questo, regge l'accusativo. Se io, però, lo traduco in italiano, non aiutassero, c'è corrispondenza, affinché non aiutassero gli elvezi, e il vezzo scomplemento oggetto. Se io lo traduco, invece, affinché non fossero d'aiuto, vedete che non c'è più corrispondenza, perché in italiano avremo un complemento di termine. In ogni caso, io so che l'uvo, latino, regge l'accusativo della persona che si aiuta con frumento né con altra cosa. Poi, si juvisent, ecco, vedete che si juvisent è una condizionale. Se io, se dove il blocco, abiturumesse, è un'infinitiva. Quo è il vezios, è una relativa, anche se ha il verbo sottointeso. quindi, il verbo principale qui diceva, diceva che se juvisent, se le avessero aiutati, c'è un eos sottointeso, lui, Cesare, abiturum esse, notate, io vado a cercare, tiro via cuo al vezios, vado a cercare ciò che si concorda con abiturum, lui li avrebbe considerati, li, li, avrebbe considerati, io ho dem loco, nello stesso modo, e poi c'è la relativa, con cui avrebbe considerato gli alvezzi, o con cui considerava gli alvezzi. Quindi, se le avesse aiutati, diceva, lui li avrebbe ritenuti, nello stesso modo, con cui riteneva gli alvezzi. Que madmodum senectus, adolescenza un sequitur, it amos senectutem. Nello stesso modo, in cui, come, o semplicemente come, come la vecchiaia, segue la giovinezza, così, la morte, sottointeso, segue, senectutem, la vecchiaia. Iero, Siracusano, Tirannorum, Romano, Svello Punico II, Omni Re, Adiurit, Iero Ieronis, Gerone, Tiranno dei Siracusani, Tiranno di Siracusa, come volete, e poi, abbiamo il verbo, Adiurit, fu di aiuto, aiutò, Omni Re, in ogni modo, chi, Romano, Svecchia Diurit, regge l'accusativo, i Romani, quando, Bello Punico II, nella seconda guerra punica. Tradunte cincinnatum, cum equos vicisse, ut invidiam cibium e fuggere, se di cattur abdica visse. Allora, c'è un cum, vicisse, cum e congiuntivo, c'è un ut, e fuggere, e abbiamo una finale. Poi abbiamo tradun, che è la principale, che regge un'infinitiva, cincinnatum, abdica visse, se è dittatura. Tramandolo che cincinnatum, abdico dittatura, vuol dire rinunciare. Regge l'ablativo, anche, no? Tra le altre reggenze, tramandolo che cincinnatum, abbia rinunciato, alla dittatura. Cum vicisset ca equus, avendo vinto gli equi, io metterei una forma temporale, dopo aver vinto gli equi, ut e fuggere, per sfuggire, e fuggere accusativo, per sfuggire a che cosa? All'invidia dei cittadini, vedete chi c'è? O, invece di sfuggire all'invidia, io potrei tratturlo con fuggire, per fuggire l'invidia. Allora abbiamo concordanti, anche in italiano, fuggire mi elegge un accusativo. Però sta meglio decisamente sfuggire. Per sfuggire a che cosa? L'italiano al complemento di termine, in latino accusativo. Maximum erat augurum ius qui, omine adverso, decennere poteratutipsi consules a popolo creati, magistratum abdicaren. Ius, diritto. il diritto degli auguri era grandissimo. Mettiamo auguri alla fine in modo da legargli il cui, augurum cum, quindi, grandissimo era il diritto degli auguri che, adverso omine, omen ominis è il presagio, adverso contrario, questo è un ablativo assoluto, dove c'è il verbo essere sottinteso, quando il verbo essere sottinteso ha valore di participio presente, quindi vuol dire essendo, essendo un presagio contrario. Poi, voi sapete che l'ablativo assoluto è sempre una subordinata che può avere tantissimi valori, tra i quali può esserci la subordinata condizionale. Quindi, il diritto, un grandissimo era il diritto degli auguri che, se ci fosse un presagio contrario, poterant decennere, potevano stabilire ut che, questo ut non è finale, gli stessi consoli creati dal popolo abdicare magistratum, si allontanassero dalla magistratura, abbandonassero la magistratura. Vergilius, poeta, affirmat, non omnes arbusta del hectare et humiles, miricas. Attenzione qui, che penso che il problema più grosso è questo omnes. Omnes non sta con arbusta, vedete che arbusta è un neutro plurale, omnes non attacca con arbusta, quindi bisogna distinguerli. quindi il poeta Virgilio afferma e qui penso che non ci siano problemi. Poi c'è l'infinitiva e c'è del hectare. Ora abbiamo, attenzione, il problema è che abbiamo una serie di accusative, essendo nell'infinitiva sia il soggetto, sia il complemento oggetto vanno in accusativo. Ora, qui incominciamo a leggere et humiles, le humili tamerici, ma c'è un altro complemento attaccato, perché c'è un et, e dove è l'altro complemento arbusta? Letteralmente, quindi, sarebbe che gli arbusti e le humili tamerici non delettant, non dilettano tutti. Oppure potrebbe anche essere in modo più libero che non tutti amano gli arbusti e le humili tamerici. più libero. In ogni caso, il soggetto è arbusta et humiles milicas. Il soggetto grammaticale, ecco. Poi qui abbiamo un esercizio dall'italiano, andiamo a vedere l'altro da latino. Ut aulus gelius narrat diogenes servitutem servivit donec equidam eum emit et manumisi come narra Aulo gelio. Questi sono incidentali, no? Andiamo alla principale. Diogene servivit servitutem questo è un complemento oggetto interno, servire la servitù. Diogene fu schiavo. Donec finché un tale eum emit lo compro et manumisi e lo affrancò. Quando i Socrates vita mente gerima vississe tamen constat eum in proporum calumnia non fuggisse quambis ci dice che inizia una subordinata concessiva sebbene Socrate di nuovo un complemento oggetto interno avesse vissuto una vita integerima posso mai lasciarlo così anche in italiano in traduzione libera sebbene Socrate avesse condotto una vita integerima proprio per non ripetere vivere una vita tamen constat tuttavia è noto eum che lui non e fuggisse calumnia se vedete fuggere regge l'accusativo non sfuggì alle calumnie degli malvagi degli uomini malvagi io ci aggiungerei in italiano un verbo fraseologico non riuscì a sfuggire alle calumnie dei malvagi viviziacus dixit miseriorem et graviorem esse fortunam sequanorum quam relinquorum quod soli né in occulto quidem queri né que ausilium implorare auderem et absentis ario visti tanquam si adesset crudelitatem orrerent viviziacus dix principale qui abbiamo miseriorem et cariorem et fortunam fortunam traduciamolo con la forma diciamo neutra fortunam latino vuol dire semplicemente destino quindi fortunam è il nome gli altri due sono aggettivi quindi probabilmente sono parti nominali della copula esse disse che la fortuna dei sequani era più misera e più grave che fortuna ricordate che secondo termine di paragone quando in italiano c'è quella che è quella di tutti gli altri quella si sottointende che è quella di tutti gli altri oppure il latino ripeterebbe fortuna quindi miserione che devono essere fortuna secondo uno quam fortunam reliquorum che è il destino di tutti gli altri e poi vediamo la ragione quad o poiché o per il fatto che io continuo a insistere sul fatto che la differenza tra poiché e il fatto che è una differenza abbastanza relativa quindi traduciamo poiché poiché soli solusola solum vuol dire unici unici è un nominativo plurale che si riferisce ai sequari che è soli quelli soli auderent attenzione non è audio è audio audere che vuol dire osare non osavano ci metto un non perché c'è già una legazione qui ne quide che vuol dire neppure quindi in latino sappiamo che ci sono una legazione in italiano ne devo mettere due non osavano ne quide neppure in occulto di nascosto queri attenzione che non è quero queris quesitun quere quello è quaero questo è queron senza la e vuol dire lamentarsi ed è un infinito presente passivo perché è deponenziale lamentarsi né chiedere aiuto dunque dunque ricordatevi qui che c'è un auderent e lui dice traduce con indicativo ma la ragione è molto chiara perché c'è una trazione modale perché questo auderent dipende da una infinitiva no quindi un verbo di una subordinata che dipende da un infinitiva che dovrebbe avere un indicativo in latino il latino vuole il congiuntivo dunque poi c'è un et un et che ci mette in con relazione auderent e orrerent e sempre il letto da questo quad quad auderent orrerent e tenevano la crudeltà diario visto assente tankwam come se tankwam si ad esset fosse presente ad esset composto di sumo orrerent orrerent l'accusativo infatti qui abbiamo l'accusativo pugna cannesi pugnata animal romam nulloresistente profettus di nuovo abbiamo un accusativo interno che però complemento oggetto interno che però non si presenta come complemento oggetto perché si presenta in un avlativo assoluto e quindi assume il valore addirittura di soggetto pugna pugnata combattuta la battaglia quindi combattuto il combattimento pugnata pugna combattuta la battaglia presso canne annivale profettus è spartito a Roma molto a luogo nullo resistente un avlativo assoluto o resistente lo considero un participio presente e allora nessuno resistendogli oppure resistente no è un verbo lo riusciamo a capire dall'uscita in e perché se fosse un aggettivo ci sarebbe l'uscita in i quindi è giusto come lo tradotto nessuno resistendogli poiché nessuno gli resisteva magno cum impetu cortes nostre sinistrum nostri un corno circum venerunt eteus atergos sunt adorte dunque magno cum impetu è un complemento di modo col cum interposto con grande impeto le nostre corti circondarono che cosa cornu sinistrum il lato sinistro dei nemici attenzione che cornu è un nome della quarta decretazione neutro e fa u in tutte le uscite tranne del singolare tranne il genitivo quindi sinistrum è anche un complemento oggetto poteva essere un soggetto un complemento a varie possibilità dunque eteus atergos e ador tesunt attenzione adorior e li attaccarono atergo e le spalle tradunt alessandrum cum asiam fere totam sub egiset macedonum amores fastidiere cepisse tramandolo che alessandro tradunt è la principale alessandro inizia con oggettiva e poi c'è un accun con narrativo avendo sottomesso pressa poco tutta l'asia quasi tutta l'asia anche qui tradurlo con un gerundio non è che stia molto bene dopo aver sottomesso quasi tutta l'asia è meglio presentarla come una temporale cepisse cominciò a infastidirsi dei costumi dei macedoni fastidio fastidio è un verbo che regge l'accusativo perché fa parte di quei verbi di sentimento o di sensazione che hanno come reggenza l'accusativo alessandro com corinti mora retur adiogene filosofum adi acque comeo diulocutus es dici tu dunque traduciamolo prima letteralmente eh alessandro com adit adit è un indicativo quindi com vuol dire quando quando ah no scusate eh no no c'è com mora retur allora ehm com mora retur fermandosi a corinto corinto è un genitivo locativo il cum ha già questo verbo prima che è un congiuntivo quindi fermandosi eh a corinto cosa fece adit ad filosofum biogene andò a trovare il filosofo biogene adque eo attenzione che qui c'è la costruzione personale perché Alessandro è sempre il soggetto e e Alessandro è detto aver parlato a lungo con lui vedete che Locutus S ha il nominativo pur essendo l'infinitiva no perché c'è la costruzione personale di decor però poi la devo passare ad impersonale quindi ricominciamo da capo Alessandro fermandosi a corinto andò a trovare il filosofo biogene e si dice si dice Locutus S che abbia parlato a lungo con lui non molti sunt omines qui ec dicere possim nec sitio onores nec desidero gloria non sono molti gli uomini che possono dire queste cose qui c'è un possim congiuntivo perché dà il senso della potenzialità della possibilità nec sitio non ho sete di onori né desidero la gloria sitio vedete non desidero onori non ho sete di onori vedete che ha leggero accusativo perché sitio è un verbo che ha leggero accusativo dunque redolet vuol dire puzzare sentire risente il genere dello scrivere di sallustio poi dello scrivere sta male vedete che è un gerundio al genitivo io lo luogo infinitivo il genere letterario di sallustio sente risente di antichità puzza di antichità nan infatti utornare t'opera sua per ornare le sue opere spesso usus est uto utere usumuti usò un deponente regge l'ablativo lo vedremo poi quando affronteremo l'ablativo assieme a fungo fluo uton fluo fungo poze tedesco e quindi antiquis verbis usò parole vocaboli antichi stella veneris cum solem ante graditur lucifer dicitur cum solem sus equitur esperus la stella di venere cum ante graditur cum con l'indicativo vuol dire quando precede il sole dicitur è chiamata lucifero lucifero è un complemento predicativo del soggetto di stella quando segue il sole è chiamata espero milites reggem alexandrum in ipso flora juventutis extintum in genti gemitum defleban milites andiamo a cercare il verbo defleban i soldati piangevano chi piangevano regen alexandrum i re alessandro cosa si attacca a alexandrum extintum morto in ipso flora juventutis nello stesso fiore della gioventù e poi c'è in genti gemitum che da attaccare a piangevano piangevano con grandi mettiamola al plurale con grandi gemiti poi poi abbiamo la dodicesima salustius narrat jugurtam multitudine nomidarum auli castra circonvenisse salustio narra che jugurta ad essere circondato con una multitudine di dumidi l'accampamento di aulo anche qui auli se uno non sa esattamente cosa sia auli è necessario che lo cerchi sul vocabolario perché auli fosse un paese una città potrebbe essere un genitivo locativo quindi si va a cercare aulus e sul vocabolario si trova che è un nome romano tradunta nibala in puerum patris iussu hoc ius iurandum iuradisse se nunquam in amicizia cum romanis fore tramandolo è la principale poi abbiamo l'infinitiva che annibale ragazzino bambino iussu patris per ordine del padre iuravisse hoc ius iurandum abbia giurato questo giuramento io posso tradurre liberamente abbia fatto questo giuramento ed è questa la prima infinitiva poi abbiamo una seconda infinitiva che dipende dalla prima se che lui fuori è l'infinito futuro del verbo essere non sarebbe stato mai dunque nell'amicizia in amicizia con i romani ecco qui poi abbiamo le due i due esercizi che ho tradotto dall'italiano in latino mi raccomando sempre se trovate degli errori perché vedete faccio tutto io per fare bene questo lavoro ci vorrebbe un tecnico che si occupa esclusivamente di caricare queste azioni e poi ci dovrebbe essere una seconda persona anche questa specializzata in latino che fa la revisione dovrebbe revisionare altrimenti gli errori vengono fuori le sviste quindi se ne trovate qualcuna fatemelo sapere io non mi offendo sono contento che poi abbiamo la nuova lezione che sono genitivo di pertinenza qualità partitivo e aggettivi con genitivo e qui ci sono poi di nuovo le versioni per la prossima lezione dunque primo argomento apriamo un secondo caso che è il caso genitivo e il primo argomento che desidero affrontare è il genitivo con gli aggettivi e io l'avrei avrei volentieri superata non l'avrei affrontata questa lezione e spiego anche il perché mi ricordo quando ero ragazzino e studiavo questi verbi e bisognava saperli allora vedete che sono sottolineati facevo terza media allora tutti i sottolineati i più importanti cubido studioso sabido conoscenza ignorante imperibile poi io mi trovavo spesso di fronte a delle difficoltà che erano queste studiavo questi verbi che dovevano reggere genitivo e poi mi ritrovavo con altri casi per cui una grande confusione cioè prima mi dovevo studiare tutti i verbi che reggevano genitivo poi dovevo capire una serie di eccezioni ufficiali e non ufficiali per cui molto spesso da latino questi verbi questi aggettivi si trovavano con altri complementi quindi proprio per questa ragione li voglio affrontare perché se qualcuno si mette a studiarli e poi si trova in situazioni facciamo degli esempi peritus peritus vuol dire esperto pratico dell'arte militare anche in italiano abbiamo un complemento di specificazione se si vuole considerare specificazione peritus re militaris però se io vado a cercare il suo vocabolario peritus c'è anche dell'ablativo c'è anche l'ablativo semplice perché perché pratico dell'arte militare può anche essere un complemento di limitazione potrebbe anche essere un complemento di argomento è meglio un'imitazione che argomento però c'è questa possibilità di trovare altre 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 reggenze in questi in questi aggettivi ad esempio experts privo privo regge il genitivo va bene però privo potrebbe reggere anche l'ablativo perché regge il complemento di privazione ad esempio qui plenus diviziarum non è detto che plenus non abbia anche la possibilità dell'ablativo anche se complenus e refertus ma vedete dopo addirittura la regola viene fuori refertus e plenus ha generalmente il genitivo se si tratta di persona ma l'ablativo se si tratta di cosa perché perché l'isola è piena di ricchezza ricchezza è un complemento di abbondanza ecco perché viene messo in ablativo il foro era pieno di mercanti non possiamo pensare che a questi mercanti siano una massa di roba che viene messa lì non viene considerato come un complemento di abbondanza ma viene considerato una specificazione vedete ci sono tante tante al sacer proprio scomuni si trova anche col dativo sacro ad apollo quindi sacer apollini ma c'è anche sacer apollini quindi una serie di aggettivi che reggono il genitivo ma hanno mille altre possibilità e si trovano su un capolario pensate allienus un esempio che ho voluto mettere allienus che voglio dire straneo altrui che appartiene ad altri da cui straniero è straneo alla famiglia allieno ostile ostile contrario regge abel ablativo oppure il dativo perché ma perché il dativo potrebbe esprimere un complemento di svantaggio sono ostile a chi ai miei persecutori potrebbe essere un complemento di svantaggio oppure sono contrario a questi mascalzoni abel ablativo perché potrebbe esprimere un complemento di separazione e lontanamento vedete sconveniente anche qui col valore di sconveniente voi capite che allienus legge l'accusativo e va bene e il genitivo va bene però c'è l'ave di sconveniente quindi non so fino a che punto questa lezione può essere utile e utile nella misura in cui io penso di mettere chi mi ascolta nella consapevolezza della complessità dell'argomento mentre quando noi l'altra volta abbiamo parlato vi ricordate di verbi di sentimento e di sensazione fisica che leggevano l'accusativo ecco lì abbiamo una certa costanza toleo mi tolgo oppure sensazione fisica odore o sapore di lì abbiamo una costanza nel senso che questi questi verbi hanno verbi di sentimento e di sensazione fisica hanno effettivamente una reggenza con l'accusativo questi aggettivi invece che vediamo oggi la cosa non è così semplice e abbastanza quindi nel dubbio consultate il vocabolario mentre ritengo che sia importantissimo il genitivo di convenienza ma molto importante perché? vediamo prima come si presenta l'ho già spiegato in un'altra lezione perché è un problema anche legato alla traduzione dal latino non tanto dall'italiano adesso vediamo il perché il genitivo di convenienza serve indicare un concetto si presenta in queste forme è proprio di è dovere di è compito di spettare in latino i sostantivi officium munus si omettono non è detto che si omettono potrebbero anche esserci e resta sul rigenitivo di convenienza facciamo un esempio est consulis guardate che potrebbe anche esserci scritto è più raro est officium consulis è compito del consulis se c'è est officium consulis non c'è problema il più delle volte però in latino questo officium questo munus non c'è quindi io mi trovo es consulis e io non capisco cosa è se non so che c'è il genitivo di convenienza come lo traduco è del consulis devo dire è compito del consulis provvedere alla repubblica liberorum est è dovere dei figli venerare i genitori quindi è necessario ricordarla questa regola è importante ricordate il verbo essere con un genitivo poi qui ci sono delle frasi fatte che sono legate al genitivo di pertinenza è mio è tuo è nostro dovere non si usa il genitivo ma si presenta così meum tuum nostrum vestrum vedete che dovere potrebbe esserci meum tuum nostrum officium est però per lo più non c'è dobbiamo ricordarci che dovere sottointeso dobbiamo tradurlo invece le espressioni e suo e loro dovere si traducono col genitivo eius eorum earum si usa suum solo in proposizioni oggettive quando suo loro si riferisce al soggetto della regia questa è una regola regata poi e la affronteremo all'uso del suus e dell'is e dell'eius eorum e arum quindi anche questa è una cosa da ricordare adesso affrontiamo un argomento un pochettino più delicato vediamo se riusciamo ad aumentare è il genitivo partitivo vediamo così se riusciamo a vederlo meglio dunque io ho spiegato cos'è il genitivo partitivo l'ho spiegato sia nell'analisi come complemento sia nel manuale di latino qui stiamo approfondendo l'argomento anche se non è e lo si pone tutto assieme anche se non tutto proprio è legato alla traduzione dal latino ma ripeto ad un approfondimento maggiore della lingua latina io direi della lingua latina ma anche della lingua italiana il genitivo partitivo ho spiegato di non confonderlo e non pensare che il genitivo partitivo indichi una parte del tutto sarebbe logico no? è il genitivo partitivo cos'è il complemento partitivo? è il complemento che indica una parte del tutto assolutamente no il complemento partitivo è il tutto indica il tutto di cui un altro complemento valuta la parte e normalmente in italiano si presenta come un complemento di specificazione in latino se questo di dei degli delle può essere sostituito con un tra scusate se in italiano il di dei degli delle può essere sostituito con un tra e un partitivo e viceversa se abbiamo un tra un fra e questo può essere sostituito con un di semplice articolato abbiamo un partitivo qui si sta indicando vengono indicati i casi in cui si presenti il partitivo e si dice guarda che il partitivo può essere retto da sostantivi di canti numero numerus bar munditudo turva esempio pars militum una parte di soldati una parte tra i soldati una turva tra donne un moggio e qui diventa un pochettino più difficile anche perché questo non dovrebbe essere un complemento partitivo un moggio di frumento e neanche un anfora di vino dovrebbe essere un complemento di quantità non un complemento partitivo sarebbe più giusto dire un complemento partitivo di quantità tutto questo io l'ho spiegato nell'analisi però valutiamo anche qui innanzitutto valutiamo che militum è il tutto di cui si considera una parte esempio una parte di soldati è partita chi è partito una parte parte soggetto quindi soldati non indica una parte ma il tutto di una parte ecco perché dicevo prima il complemento partitivo non indica una parte ma il tutto di cui un altro complemento valuta la parte una turba di donne anche qui turba mulierum anche qui mi lascia abbastanza io sono degli esempi che io non condivido molto io li ho portati perché il testo a cui faccio riferimento per me è importante però non sempre sono d'accordo una turba di donne io quindi non la vedo un complemento di partitivo o è un complemento di specificazione o un complemento di quantità infatti voi non potete mettere una turba tra donne o un complemento di specificazione cioè donne specifica di che cosa è composta questa turba oppure è un complemento di quantità come si presenta il complemento di quantità in questo modo prendiamo un moggio di frumento che più che un partitivo è un complemento di quantità uno deve porsi questa domanda guardate che nell'analisi spiegato bene di frumento quanto risposta un moggio anche qui quando io devo definire il complemento di quantità non dico che il complemento di quantità indica una quantità no il complemento di quantità è quel nome che è retto da quel vocabolo che risponde alla domanda quanto posta al supposto complemento di quantità andatevi a vedere l'analisi per me questo non è un complemento partitivo voi direte ma allora perché hai messo queste pagine perché queste pagine si trovano anche in tante altre sintassi e allora in una sintassi si è scritto una cosa e nell'altra sintassi c'è scritto un'altra e io penso invece che se si chiariscono questi argomenti tutto diventa più semplice allora ripeto una parte di soldati dei soldati qui non c'è dubbio è partitivo una turba di donne questo di non si può trasformare in tra non posso dire una turba tra donne e partita quindi questo di non è partitivo anche se lui me lo mette tra i partitivi di donne ho un complemento di specificazione oppure se non è un complemento di specificazione potrei considerarlo un complemento di quantità perché? perché pongo la domanda a donne dico di donne quante? risposta una turba una turba di donne è partita una turba soggetto di donne complemento di quantità è partita è praticato verbale il problema non si pone più di tanto perché sia complemento di quantità che è complemento di specificazione che è complemento partitivo in latino si presentano al genitivo però il complemento partitivo può anche essere tradotto con ex labrativo e interaccusativo io qui una turba di donne non posso dire turba turba ex mulieribus oppure turba inter mulieres perché non è partitivo un moggio di frumento di frumento quanto un moggio di frumento è complemento di quantità modius tritici un'anfora divino divino quanto un'anfora anche questo potrebbe essere un complemento di quantità o volete un complemento semplicemente di specificazione il complemento partitivo quindi non è detto che tutte le volte che c'è un sostantivo indicante numero dopo ci sia necessariamente un partitivo puro ora possiamo trovare anche una specificazione o meglio ancora un complemento di quantità il complemento partitivo è retto anche da comparative superlative relativi il più eloquente vedete tra gli oratori qui sono d'accordo il maggiore tra i fratelli no? ricordatevi sempre però anche in questo caso che se maggiore tra i fratelli i fratelli sono solamente due l'abbiamo fatto quando abbiamo fatto il comparativo superlativo allora il latino usa il comparativo di maggioranza se i fratelli sono più di due il latino usa il superlativo relativo questo però non c'entra niente con il partitivo rimane pur sempre fratrum e il vero complemento partitivo può essere sostituito da tra il maggiore tra i fratelli poi il complemento partitivo può essere anche retto da aggettivo numerale pronomi dunque servo Tullio sesto dei re romani sesto tra i re romani sesto tra i re romani chi di loro chi tra loro nessuno dei soldati nessuno tra i soldati vedete con i superlativi i numerali e i pronomi spesso in luogo del genitivo si trova l'aventurativo con elsa questo è l'altro modo per trattare i partitivi questa costruzione di regola dopo unus allora il più illustre di tutti i poeti il più illustre tra tutti i poeti il più illustre caravissimus ex ma per carità potrei mettere omnium poetarum non sono obbligato a mettere ex oppure inter omnes poetas uno dei sette re unus exceptem regibus qualcuno dei miei amici aliquis ex meis amicis ricordatevi penso che non ci sia qui vediamo se c'è no ricordatevi anche l'altra possibilità di traduzione del partitivo che intervio accusativo poi andiamo avanti giustamente il testo qui ricorda che nos e vos hanno due genitivi e plurali nostrum nostri vestrum vestri il partitivo prende sempre soltanto nostrum e vestrum e non nostri vestri si ricorda che il genitivo partitivo dei pronomi personali è nostrum e vestrum le forme nostre diverse sono invece genitivi oggettivi nessuno di noi nessuno tra noi e non nostri si ricorda che il pronome uter ricordate uter utracutrunque neuter eccetera reggono il genitivo partitivo solo se sono accompagnati da un pronome altrimenti il nome a questo punto concorda chi di loro due c'è loro da tradurre chi dei due si traduce uter loro e oro ma se io ho quale dei due fratelli vedete non abbiamo genitivo partitivo anche se in italiano è genitivo partitivo se io devo fare l'analisi logica in italiano io dico quale pronome ed è un pronome interrogativo ed è soggetto dei due fratelli è un complemento partitivo più attributo no? in latino quale dei due si traduce uter utra utrum e frater lo vedete si accorda con uter diventa soggetto mentre uter prende che cosa il genere da frater e sono tutte cose importanti perché sono legate al partitivo dunque anche plericque plereque pleracque vedete che è al plurale questa roba qui i e a si declina que e un suffisso che poi in italiano traduco al singolare la maggior parte vuole di regole il genitivo partitivo del pronome il sostantivo invece concorda generalmente con plericque ma si trova spesso anche con genitivo quindi la maggior parte di voi plericque vestrum e di qui non c'è dubbio il più i più degli uomini vedete mentre uterque al singolare o uter o neuter plericque plurale quindi plericque omines però non sarebbe sbagliato tradurre plericque hominum in questo caso in ogni caso l'italiano il più il più è il soggetto degli uomini è partitivo in latino plericque homines abbiamo un soggetto più attributo se io metto plericque hominum abbiamo plericque soggetto hominum partitivo poi lui dice questo è tutto latino perché in italiano non c'è corrispondenza col partitivo lui dice attenzione che il complemento partitivo può essere retto anche da verbi di luogo questo è bene ricordare ricordarlo perché dal latino lo troviamo in quale parte del mondo in quale parte in italiano dico complemento di stato in luogo più attributo del mondo è un complemento di specificazione il latino dice dove tra le terre vedete che viene fuori partitivo in nessuna parte del mondo in nessuna parte complemento di stato in luogo più attributo del mondo specificazione il latino dice nusquam come tradurlo non c'è una corrispondenza in nessun luogo tra le genti e gentio diventa un gentio plurale partitivo giunse a tal punto di follia questo dovrebbe essere stato avrebbe dovuto essere inserito con questi aggettivi pronomi neutri che reggono appunto questo partitivo di quantità a tale di insagna giunse io se mi permettete questo esempio portatelo sotto perché lo vediamo subito perché allora abbiamo detto alcuni avverbi di luogo che danno origine al partitivo latino ma non c'è corrispondenza all'italiano poi ci sono questi aggettivi o pronomi neutri li avevamo già visti di quantità allora molto denaro non è propriamente un partitivo viene chiamato partitivo di quantità perché vedete non posso mettere molto di tra denaro nulla tra di male non è possibile poco tra eloquenza qui viene fuori il discorso che vi ho fatto prima del complemento di quantità di denaro quanto molto vedete denaro va al genitivo nulla di male di male quanto nulla poca di eloquenza di eloquenza quanto poca molto spesso in italiano non c'è questo di non c'è molto di denaro si traduce molto denaro non si dice poco di eloquenza si dice poca eloquenza quindi il di e le sono due costruzioni tipicamente latine e per questa ragione in modo particolare si devono conoscere perché non avendo la corrispondenza in italiano quando le trovo in latino devo saperle tradurre e sempre su questa regola vedete l'attenzione sempre su questa regola perché vedete che c'è aliquid e nil e ci dice qui attenzione aliquid e nil non sempre hanno questo genitivo che viene definito partitivo di quantità ma mettete questa quantità vicino perché di per sé non è un complemento partitivo ma né in italiano né in latino non sempre hanno il genitivo qui dice se l'aggettivo è della prima classe dopo aliquid o nil di solito va in genitivo ma talvolta concorda col pronome qualcosa di buono qualcosa di aliquid posso mettere boni oppure bonum concordato con qualcosa anche questo è importante perché io trovo aliquid bonum qualcosa buono bisogna saperlo che questo è un genitivo perché fin quando trovo aliquid bonum qualcosa di buono va bene ma aliquid bonum se l'aggettivo è della seconda classe deve sempre concordare col pronome qualcosa di dolce aliquid dulce se vi sono più aggettivi di classi diverse il primo aggettivo attira nel suo caso di altre eccetera questo è un'altra però è importante ricordarsi quindi che di fronte a alcuni avverbi di luogo alcuni aggettivi pronome abbiamo un genitivo questo genitivo viene chiamato genitivo partitivo ma io sarei più propenso a definirlo partitivo di quantità o semplicemente di quantità con aliquid enil non è detto che ci sia genitivo ci può essere un accordo quindi questa è la regola completa che lega complemento partitivo complemento di quantità complemento di specificazione complemento partitivo di quantità e ci dice con le aggiunte che ho fatto io attenzione non c'è solo il genitivo ma c'è anche ex elaborativo e inter l'accusativo poi abbiamo il complemento di qualità e anche su questo bisogna fare una certa riflessione altrimenti commettiamo di nuovo altri errori dunque quale riflessione avevo già detto affrontando 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 qui non riesco vediamo se riesco ecco perché se no non riesco ad andare sotto oh benissimo abbiamo detto che anche quando ci sono le determinazioni di peso misura tempo numero se questa determinazione è retta da un nome o dal verbo essere non è più complemento di età un bambino di dieci anni di dieci anni propriamente non è un complemento di età è un complemento di qualità perché è retto da bambino una fossa di dieci piedi di dieci piedi proprio perché è retto da un nome non dovrebbe essere un complemento di estensioni ma un complemento di qualità queste sono voi mi dite ma sono dei formalismi sì però mi aiutano a capire certe cose dunque innanzitutto andatevi a vedere il mio complemento di qualità da non confondere con altri complementi non confondere con complementi di moto no non confonderli con il genitivo di qualità si usa per indicare le proprietà caratteristiche di una persona di un'imagine o una cosa si ricordi però che non sempre il complemento di qualità si traduce col genitivo e vediamo queste due distinzioni sempre il genitivo nelle determinazioni vedete peso misura tempo numero età eccetera un vaso di gran peso è una determinazione concreta se voi vedete bas magniponderis una flotta di 30 navi classi 30 navi quando invece si esprimono qualità morali durature continua a esserci genitivo ma può anche esserci lablativo in questi casi il nome indicante della qualità è sempre accompagnato in latino ad un aggettivo qualificativo vediamo vir precari in geni ma potrebbe anche essere preclaro in geni un uomo in geni non posso semplicemente tradurre vir in geni questo in geni devo farlo accordare accompagnarlo ad un aggettivo e devo aggiungere sempre lablativo quando si esprimono qualità fisiche oppure qualità morali transitorie vedete a Gesilaus fu di bassa statura questa è una qualità fisica a Gesilaus fu di statura umida e abbiamo il narrativo state di buon animo state di buon animo è stotte è l'imperativo futuro del verbo essere che sostituisce l'imperativo presente di buon animo è una qualità dell'animo qualità morale transitoria e quindi viene messo in narrativo semplice siamo sempre lì forse tutte queste distinzioni non sono importanti per la traduzione dal latino ma per una consapevolezza e una chiarezza più completa della lingua latina specialmente queste distinzioni formali che non si fanno più ma guardate io non voglio spaccare il capello è che l'alunno spesso si trova di fronte a certe contraddizioni sui libri e non riesce a capire perché non le comprende non le comprende perché non ci sono queste distinzioni chiare ricordatevi dunque le distinzioni di qualità qualità ce l'abbiamo anche peso, misura, tempo spazio, età quando è rete un nome verbo essere e tutto il discorso che riguarda il partitivo quando non è di per sé complemento di partitivo ma è complemento di quantità oppure quando è complemento di partitivo di quantità vedete queste distinzioni secondo me sono importanti per fugare ogni dubbio a questo proposito e abbiamo finito